MESTIVAL! Tanti amici saranno con noi e ci sarà l'allegria! Festival Italia e Musica, questo è il festival che fa per te, yeah, yeah, yeah! Festival Italia e Musica, resta con noi e vedrai che ti divertirai! Festival! Festival Italia e Musica, resta con noi e ci sarà l'allegria! Festival Italia e Musica! Mamma Rosa, compiuto 90 anni, mi raccomando, forza, coraggio, ti aspettiamo in studio! Ciao Mamma Rosa! E tutti naturalmente anche i nostri telespettatori che ogni settimana, ecco qua, per Mamma Rosa! Oh, il nostro Edoardo! Mamma Rosa! Mamma Rosa! Peppino per la tua cara mamma! Ed ora, prima di iniziare però, eh, il nostro Edoardo! 3, 2, 1... Oh, che forza la musica!